Una donna alla guida della sinistra che già promette opposizione leale e democratica. Una vera sorpresa, così come hanno titolato oggi i principali quotidiani italiani. E' Elislein, la nuova segretaria alla guida del Partito Democratico, scelta da oltre un milione di italiani. Una dimostrazione che l'opposizione c'è e si fa sentire, con la partecipazione attiva, in quella che è stata la giornata decisiva per la scelta del nuovo leader di partito. E anche in Puglia l'affluenza è stata importante. Oltre 82 mila i pugliesi che hanno partecipato al voto, in una regione che ha confermato il risultato dei congressi. Stefano Bonaccini, il candidato degli amministratori sostenuto dai big locali, è stato sconfitto a livello nazionale, ma in Puglia ha battuto la candidata movimentista Baluardo dei diritti civili. La partita pugliese è finita, infatti, a favore del presidente dell'Emilia Romagna, che ha superato di qualche punto il 50% delle preferenze, conquistando in particolare le province di Bari, Bat, Foggia e per 200 voti quella di Lecce. La scelaina invece vince nella provincia di Taranto e in quella di Brindisi. Bonaccini era sostenuto da gran parte degli amministratori DEM, dal governatore Michele Emiliano, dal sindaco di Bari, Antonio De Caro, e dei tre parlamentari, Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi, e anche dal vicepresidente della regione Puglia, Raffaele Piemontese. A Bari, città, dove hanno votato 7.759 persone, Bonaccini ha raggiunto il 61,18% delle preferenze, ovvero 4.493 voti, contro i 2.851 voti della Schlein. Vittoria per il presidente dell'Emilia anche in provincia di Foggia, dove conquista il 63,6% e batte la Schlein nel Salento per pochi punti, 10.848 le sue preferenze contro le 10.564 dell'avversaria. La deputata invece ha vinto in provincia di Brindisi, con 2.655 voti contro i 2.390 per Bonaccini, e anche nel Tarantino con 5.501 voti contro i 4.918 dell'avversario.